Scegli una porta. Quella lì? No, quella è mia. Scegliene un'altra. Che hai nel cervello? Avevi ragione. È alla tua porta. Ci sono un sacco di cattivi lì dietro. Accesso abilitato. Accesso negato. Accesso negato. Accesso negato. Liu Cobbs e Decker Shaw. Abbiamo dei conti in sospeso. La sorella di Shaw mi ha preso qualcosa. Un virus che spazzerebbe via metà della popolazione. E lo rivoglio. Mi dici con cosa abbiamo a che fare? È mia sorella. Affari di famiglia. Sei il destino del mondo. Sono affari miei. Questa storia mi sembra molto losca. Ci tieni a tua sorella? Senti, ci penso io. Dobbiamo lavorare come una squadra. Tutti insieme. Facciamolo. Allacciati Ciccione. Al mio tre. Uno. Hai visto quella faccia? Non sai da quanto aspettavo di farlo. La musica è partita. Ora mettiamola in sync. E quindi siete inseguiti? Da mercenari guidati? Da un soldato potenziato geneticamente? Guardami. Il Superman Nero. Sei pazzo. Ehi! È davvero Superman. Scompariamo dai radar. Dove? A casa. È tornato il mio bambino. Mi dispiace portarti i guai, mamma. Mi servono i miei fratelli. Questa famiglia entra in guerra. Ci servono macchine e armi. Mamma, dove sono le nostre armi? Le ho date via. Che gesto nobile, signora Hobbs. Siamo in un bel guaio. Io direi casino. Facciamo la vecchia maniera. Molto bene. Avanti! Vado a fare un giro! Woohoo! Non ci posso credere! Vado a fare! Vado a fare! Via Role, rimossa superficial. Vado a sul d'arm Burnino. Vado a sul d'arm Bopperoso. Vado a Zielgerino.